Dentro ciascun sorso di Affligem è racchiusa una storia millenaria di scoperte, tradizioni e passione. È dal 1074 che Affligem viene prodotta a ridosso del campanile dell'abbazia Affligem nelle Fiandre, su licenza dell'ordine monacale benedettino. Affligem è una delle rare birre d'abbazia certificate dall'Unione delle Birrerie Belche. Questa certificazione è riconosciuta solo se esiste una connessione con un'abbazia e se parte dei profitti vengono utilizzati per finanziare opere benedettine. Affligem è la birra di un'abbazia belga antica di mille anni.